Innanzitutto ringrazio il Sindaco per le belle parole, soprattutto per l'equilibrio con le quali le ha pronunciate. Come dice lui, noi abbiamo appena raggiunto il massimo risultato possibile, tenere una manifestazione così grossa, così prestigiosa, soprattutto quella che probabilmente oggi nello sport mondiale ha parità di contributo statale, dà il maggior impatto economico sul territorio, siamo riusciti a tenerla per altri 5 anni, dal 2026 al 2030, nel frattempo abbiamo fatto un blitz per la Coppa Davis, siamo in una fase di grandi acquisizioni, magari continuerà, magari arriverà ancora qualcos'altro e quindi io credo che ci sia il modo sia per essere riconoscenti verso chi ci ha aiutato a lanciare le ATP Final in Italia, che prima erano praticamente sconosciute, sia per far crescere il tennis sfruttando anche opportunità come quelle che Milano offre, credo meglio di qualunque altra città d'Italia. Quindi dateci un attimo il tempo per fare il punto, credo che insieme al governo, che naturalmente forse più interessato di noi su una vicenda del genere, perché è una manifestazione i cui interessi superano quelli della Federazione Italiana del Tennis insieme al governo, io credo che come abbiamo sempre fatto riusciremo a trovare per il futuro una situazione equilibrata che mantenga tutte le grandi città d'Italia, a incominciare da Roma, con un grande interesse verso il nostro sport e con le giuste ricadute che devono esserci per le grandi città che hanno fatto in modo diverso la storia del nostro sport in Italia. Dateci un attimo il tempo di fermarci perché non ci siamo ancora fermati, troveremo una soluzione equilibrata, tenendo conto anche del fatto che sulla Coppa Davis noi abbiamo magari più margine di decisione, le ATP Final sono la manifestazione più grande di proprietà dell'ATP. E quindi possiamo naturalmente interloquire, però l'ultima parola spetta sempre all'ATP. Diciamo che non esclude la staffetta Milano-Torino e trovo… Guardi, in questo momento io non escludo niente, anche sulla Coppa Davis sono venute ieri fuori le ipotesi più fantasiose, ma io in questo momento sto facendo gli acquisti, le vendite dopo che porto a casa tutto ci penserò. Naturalmente la discriminante, soprattutto per la Coppa Davis, è un palazzetto che abbia diciamo almeno 8 mila spettatori, in Italia mi sembra che ce ne sono 7-8 e da quelle città bisogna necessariamente partire. Dopodiché Milano-Milano non devo dire niente, a Roma abbiamo già gli internazionali d'Italia e quindi dovete avere un attimo di pazienza. Grazie. Grazie. Grazie.